Presentato anche ad Arezzo il nuovo codice del commercio che entrerà in vigore il 13 dicembre, all'interno della sede di Confesircenti è intervenuto l'assessore regionale Stefano Cioffo. Una regolamentazione, ha detto l'assessore, che arriva al termine di una lunga concertazione avuta assieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria che abbiamo voluto tenere in considerazione nel rispetto del reciproco ruolo. La tappa a retina è servita per scendere nel dettaglio e spiegare cosa cambierà sul commercio in sede fissa e sulle aree pubbliche, sulla distribuzione della stampa quotidiana e di quella periodica, ma anche nella somministrazione di alimenti e bevande e la distribuzione dei carburanti. Argomento importante anche le attività fieristiche e la riqualificazione e la valorizzazione dei luoghi del commercio. A margine c'è stato modo di parlare anche del tema dei mercatini degli svuota soffitte, ha detto il presidente di Confesercenti Arezzo Mario Landini, c'è ancora da lavorare per una regolamentazione. Per il futuro l'impegno dell'associazione di categoria sarà quello di continuare a vigilare ed essere in prima fila nei processi di valorizzazione e promozione dei territori utili a dare una spinta al turismo e ai consumi.